Grandi emozioni questa mattina ad Adrano per l'arrivo del velo di San D'Agata per un incontro storico didattico con gli alunni della città. La reliquia è arrivata indorno alle 9.45 con Monsignor Barbaro Scionti, parroco della Basilica Cattedrale di Catania e Claudio Consoli, capovara della Festa Agatina. Ad accoglierla all'inizio di Via Roma il parroco Don Pietro Strano e l'assessore comunale Salvo Italia. L'ingresso a Santa Lucia del Sacro Velo è stato accolto con grande emozione da alunni, docenti e fedeli. L'incontro ha lo scopo di fare conoscere alle giovani generazioni la storia di San D'Agata e a comprendere il significato della festa a lei dedicata. Monsignor Scionti ha raccontato ai ragazzi questa mattina nella chiesa di Santa Lucia di Adrano la figura di San D'Agata definendola giovane e coraggiosa. Don Roberto, allora spieghiamo la presenza del velo di San D'Agata ad Adrano, una iniziativa che riguarda le scuole. Sino allo scorso anno gli alunni andavano incontro a San D'Agata, adesso è San D'Agata che incontra i ragazzi delle scuole. Sì, la nostra Arcidio ci si è voluto dare questo segno grande di Agata, fanciulla che va incontro ai ragazzi delle nostre scuole. Quindi non chiedere più alle scuole di scendere in cattedrale ma è proprio Agata con la reliquia del Sacro Velo, con il parroco della cattedrale, con il Capavara che vanno incontro alle scuole. Già lo scorso anno abbiamo toccato le scuole più lontane dalla diocesi, quindi Bronte e Zafferana. Quest'anno è il turno di Adrano e di Nicolosi. La bellezza di questo evento è far sì che i ragazzi possano incontrare un pezzo della nostra storia, un pezzo della nostra cristianità, un pezzo di vita. Agata insegna ai nostri giovani la libertà del Vangelo, la bellezza dell'essere chiesa in uscita, la bellezza di una vita donata senza condizionamenti esterni ma libera all'amore. E' questo il messaggio che vogliamo dare alle scuole. Presente anche Claudio Consoli, Capavara delle Feste Agatine. Cosa significa per lei ricoprire uno ruolo così importante per Catania, Sant'Agata e i catanesi? Sicuramente è motivo di orgoglio, è motivo di fierezza. Si porta avanti una tradizione che è secolare. Il ruolo del Capomastro è un ruolo antico. E poi ovviamente con oneri e onori, perché la festa è abbastanza impegnativa. Dirigere il Fercolo di Sant'Agata non è cosa facile. Però lo facciamo con la solita devozione e la solita serietà. Per un catanese i giorni dell'attesa verso la festa di Sant'Agata, cosa significano? Il legame tra Sant'Agata e i catanesi è indissolubile. I giorni di gennaio Catania prende tutto un altro aspetto. E' il momento dell'anno più atteso. Quando finiscono le festività natalizie, da noi cominciano le festività agatine che tutti aspettiamo. Ciao! Come.